Ciao a tutti, con questo video vado a fare un po' di chiarezza su un concetto molto semplice ovvero la differenza che c'è tra un veicolo che precede e quello che lo segue e il tratto precedente a un cartello e il tratto seguente. Faccio questo video perché ho notato che molti dei miei ragazzi in autoscuola fanno un po' di confusione su questa cosa qui. Quindi incominciamo subito. Bene, quella che vedi davanti a te è la macchina che ti precede mentre quella che ti segue è quella che sta dietro al tuo veicolo. Te lo ripeto, macchina che precede, macchina davanti a te macchina che segue e la macchina dietro di te. Mentre ora andiamo a vedere la differenza che c'è tra il tratto precedente a un cartello e il tratto seguente. Ecco, quello che stiamo percorrendo è il tratto precedente al cartello ovvero quello che viene prima del cartello mentre una volta superato il cartello diventa il tratto seguente. Bene, grazie a questa spiegazione nel prossimo video posso andarvi a spiegare un pannello integrativo che è quello di inizio, continuazione e di fine. Io vi saluto e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ciao da Autoscuola Xenon. Autoscuola Xenon. Autoscuola Xenon. Autoscuola Xenon.